Era già nell'area da un pezzo, adesso è diventata realtà. A Villa San Giovanni arriva la Commissione d'Accesso Antimafia su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria e dietro delega del Ministro dell'Interno. La decisione, come sempre in questi casi, è stata assunta al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso. La Commissione d'Indagine insediatasi oggi è composta dal Vice Prefetto Aggiunto, Eugenia Salvo, da Francesca Iannò e Pietro Maldonato, funzionari economico-finanziari. La terna commissariale opererà per i prossimi tre mesi, che potranno essere prorogati di ulteriori tre qualora la situazione dovesse richiederlo. Il quadro politico a Villa San Giovanni del resto era critico da un pezzo. L'arresto recente dell'ex sindaco Rocco Lavalle, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata, ha completato un puzzle già piuttosto complicato. Dopo la sua sindacatura infatti era comunque rimasto all'interno del contesto politico villese. Così come imputato per corruzione aggravata dall'aver favorito l'andrangheta e anche l'ex sindaco Antonio Messina, assieme a Paolo Romeo per la nota vicenda che concerne la perla dello stretto. Non è accusato di reati di mafia invece l'attuale sindaco eletto Giovanni Sicladi, che invece risulta sospeso per una condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Ora l'attenzione dei commissari si concentrerà sulle ultime elezioni comunali, sugli atti fin cui posti in essere e sulle posizioni dei singoli amministratori. All'esito delle verifiche sarà deciso se sciogliero o meno l'attuale consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Consolato Minniti per la CNews24.